Un momento, è un legolio quello che ho sentito? Ah sì, è Archibald, un gatto. Un'amica della protezione animali me l'ho prestato per una settimana, è un uovo sottoposto. Hai portato un gatto al lavoro? Sì, ma per ragioni strettamente professionali, mi conosci. È per stanare il pirata informatico che rosicchia i cavi del mio ufficio. Ah, d'accordo. Beh, torniamo a noi. Archibald. Attacca. Archibald, attacca. Oh, è un mezzo buono buono. Ippolita? Sì? Che posso fare per lei numero due? No, no, fermo. Aia, aia, aia. Aia. Aia.